Forse sono stato un po' saltato da un rama all'altro senza una certa ordine nel mio discorso, ma vi ho detto tutto quello che il mio animo mi ha suggerito di dirvi, italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola? Oh, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo, io dico, è martello su questo punto, costituiscono l'avenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che è una conquista fragile, che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con permessa, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronta a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Ecco quello che io dico ai giovani, senza presunzione, quasi fossi un loro compagno di strada, tanto mi sta a cuore la loro sorte. E io li esorto a difendere andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le conizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di conizioni utili che serviranno a loro domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte, giovani che mi ascoltate. Lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno. Grazie.